Ho conosciuto elettronica quando ero in giro all'università e mentre giravo per i laboratori mi sono detta fichissimo questo posto, devo venire a lavorare qua e ci sono riuscita. Sono Fabiana e lavoro in elettronica da dieci anni, sono la responsabile della produzione e il mio ruolo prevede la delivery della componentistica elettronica garantendo costi, qualità e tempi in linea di principio con la metodologia Work Class Manufacturing. Elettronica ti stimola tutti i giorni, il mio ruolo poi è molto dinamico, non riesco mai a stare ferma perché non si può stare fermi, non soltanto nella gestione del team, che sono comunque 80 risorse tutte suve specializzate tecniche con cui bisogna parlare ogni giorno e confrontarsi. Questo percorso che ha durato dieci anni è stato parallelo al mio percorso di vita privata in cui sono riuscita a diventare mamma di due splendidi bambini anche grazie a tante politiche aziendali che Elt mette in campo per i propri dipendenti. Quindi si può benissimo essere una responsabile e coordinare 80 tecnici ma essere anche una mamma di due bambini e vivere entrambe le cose con grandissima soddisfazione.